Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca. 11 misure cautelari sono state seguite all'alba di oggi dalla Polizia a Pescara. Polizia che ha sgominato un'organizzazione di romeni albanesi che si era specializzata nello sfruttamento della prostituzione. Il servizio è di Paolo Renzetti. Scacco al racket della prostituzione a Pescara dove gli agenti della squadra mobile hanno sgominato una organizzazione che gestiva lo sfruttamento di alcune donne nella zona del centro cittadino e verso la Pineta Sud. 11 misure cautelari restrittive eseguite all'alba di oggi. Una persona risulta ancora latitante. Ancora una volta emerge in tutta la sua gravità il fenomeno della prostituzione a Pescara sia in centro che in periferia. Sì, è l'ennesima operazione che noi conduciamo. Che non è una lotta contro i mulini a vento perché è un'azione di contrasto comunque necessaria. Anche furti e rapine continuano ad accadere. Non per questo noi smettiamo di arrestare rapinatori e ladri. Quindi anche sul versante della prostituzione andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo fatto già luce su casi pregressi piuttosto inquietanti. Abbiamo seguito un anno e mezzo fa una storia di aborti clandestini. Abbiamo una volta liberato una ragazza che era tenuta come una schiava. Oggi ci siamo imbattuti in questa storia di questa prostituta affetta da HIV e depatite che potrebbe aver contagiato qualcuno. Quindi è necessario proseguire nel contrasto a questo tipo di fenomeno che tra l'altro garantisce ingenti profitti. Se rendessimo la vita facile agli sfruttatori credo che la situazione sarebbe ben peggiore di quella che abbiamo oggi sotto gli occhi. In azione albanesi e romeni? Albanesi e romeni sì, con il supporto di due italiani come gregari. Cinque gruppi divisi tra di loro eppure comunicanti perché con una strategia coordinata tendevano a evitare il più possibile i conflitti su strada. Questo nell'ottica di massimizzare i profitti per evitare che l'attenzione delle forze dell'ordine si concentrasse su di loro. Avete quantificato profitti per le organizzazioni a 9-0? Sì, una delle associazioni più strutturate nel giro di un anno ha effettuato rimesse in Albania per 160.000 euro. Che sono solo una parte dei ricavi complessivi perché immaginiamo che un'altra parte cospicua sia stata destinata ad altre spese di mantenimento e soprattutto che ci siano state anche rimesse per contante che ovviamente non abbiamo potuto tracciare. Un operaio di 55 anni è morto questa mattina travolto dalla piccola ruspa che stava manovrando per la manutenzione del verde ai bordi della carreggiata dell'autostrada A14 fra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro. L'incidente è accaduto nel territorio di Casalbordino, dunque sempre in provincia di Chieti. L'uomo residente a San Salvo era dipendente di una ditta di Ravenna che da anni si occupa per conto di autostrade della sistemazione della vegetazione in quel tratto. La ruspa si trovava in un punto di forte pendenza nei pressi di un canale di scolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud per ricostruire la dinamica dell'incidente. La salma, recuperata dai vigili del fuoco di Vasto, è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Casalbordino. Il magistrato Enrico Medori ha restituito ai familiari le salme dei due alpinisti terramani precipitati domenica scorsa durante una scalata al Brancastello. L'autopsia ha evidenziato che non ci sono stati malori e dunque la causa dell'incidente mortale da attribuire ad un errore umano, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il pubblico ministero di Teramo, Enrico Medori, ha concesso il nulla osta alla riconsegna delle salme dei due alpinisti terramani, Francesco Carta e Enrico Faiani, precipitati domenica 30 aprile mentre scalavano la via del Brancastello nel vallone di San Pietro, versante di Teramo. 45 anni Carta di Cerminiano e 60 anni Faiani, artigiano di Castelli, entrambi esperti scalatori, sono morti per le conseguenze della caduta. L'autopsia infatti non ha evidenziato possibili malori, dunque un errore umano, l'ultimo dei sempre più frequenti casi di morte in montagna. C'è stata un'imprudenza secondo lei? Diciamo che potevano usare un po' di criteri di sicurezza normale, quotidiane, cioè il minimo si dovevano legare e salire su con la progressione classica, con Ramponi e Picozza e con la sicurezza dovuta. Quindi il fatto che sono stati così tutti e cinque slegati hanno rischiato un po'. L'altro ieri era dura, la neve era veramente dura, anche se lì è un versante abbastanza est, però insomma c'è stata un po' di leggerezza. Perché si rischia sempre di più? Beh, diciamo che c'è molta più gente che va in montagna rispetto a tanti anni fa, quindi comunque c'è tanta gente che comunque non è assolutamente in grado di valutare il pericolo. Lei fra l'altro ha sostenuto una legge importante proprio per far sì che le persone che si avvicinano alla montagna siano consapevoli. Il soccorso quando c'è urgenza si può benissimo fare il soccorso con l'elicottero e con tutti i mezzi possibili, però bisogna un attimino valutare che se si alza un elicottero con quello che costa e con il rischio, che poi abbiamo visto l'esperienza del povero Davide De Caro, disse che è morto per una sciocchezza, per andare a soccorrere uno che aveva una semplice frattura, ma possiamo scherzare. Quindi il soccorso a pagamento servirà un po' per cautelare, un po' per non far rischiare più di tanto. Intanto qual è il suo messaggio anche agli esperti scalatori? In questo periodo molta prudenza, molta attenzione, non sottovalutare quelle che sono adesso le differenze di temperatura, che ci sono facilissimo. Ieri era una giornata diversa, ad esempio non servivano tutte quelle precauzioni, quindi attenzione, più attenzione basta. Intanto la magistratura sta lavorando per accertare esattamente la dinamica dell'incidente e per questo saranno ascoltati gli altri alpinisti presenti sul Brancastello al momento della tragedia. Due coniugi 32enni, Silvia D'Ercole e Giuseppe Pirocchi, entrambi residenti a Scerni in provincia di Chieti, sono morti ieri pomeriggio cadendo nelle acque del fiume Orta a Caramanico Terme in provincia di Pescara. A lanciare l'allarme erano stati alcuni testimoni che li hanno visti scivolare. I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Arpino e Speleologico. I carabinieri forestali e quelli della Compagnia di Popoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che, appunto, ricordiamo è avvenuto ieri sul fiume Orta. Al momento, in base alle prime informazioni, è stato accertato che la coppia si è allontanata dal resto del gruppo e si è avvicinata al fiume, ma dalle testimonianze fino ad ora raccolte non è emerso se lo abbiano fatto per scattare delle foto, un selfie o semplicemente per guardare le rapide da vicino. I carabinieri stanno ascoltando le persone presenti sul posto al momento dell'incidente tra cui alcuni familiari dei due giovani. Intanto si è svolta stamani all'ospedale di Chieti la ricognizione cadaverica sui corpi dei due 32enni. Una tragica fatalità ha tolto la vita a due ragazzi della nostra comunità. Un triste pensiero va ai loro bambini, ai familiari e in questo momento difficile. Ci stringiamo con dolore e affetto alla famiglia D'Ercole e alla famiglia Pirocchi. E' quanto si legge sulla pagina istituzionale del comune di Scerni. Invece sulla propria pagina Facebook il sindaco di Caramanico, Simone Angelucci, ha scritto Caramanico Terme si stringe intorno alla comunità di Scerni Esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza e il nostro cordoglio ai familiari delle vittime del tragico incidente verificatosi ieri in località I Lucchi. E ora cambiamo decisamente pagina. Parliamo di politica. Sinistra italiana nomina il nuovo coordinatore regionale Daniele Liccheri, ex segretario provinciale di SEL. Analizza il nuovo scenario politico alla luce delle primarie del PD e in vista delle prossime elezioni. Francesca Romana Testi. Sinistra italiana prosegue il suo percorso di sviluppo. A 18 mesi dalla nascita, dopo l'esodo di alcuni rappresentanti regionali, come Gianni Melilla e Mario Mazzocca, si procede a nuove nomine. La prima è quella di Daniele Liccheri, che passa da segretario provinciale di Pescara a SEL a coordinatore regionale. Noi abbiamo già in cantiere una serie di progetti di lavoro sul territorio, che punteranno tantissimo sul mutualismo e su una serie di tematiche che sono nostre, come il reddito minimo di cittadinanza e le vertenze ambientali, che rimangono all'ordine del giorno, quindi il parco della costa teatina, la bonifica del sito di bussi, in cui siamo già andati recentemente con la nostra responsabile azione ambiente, Parola Natalicchio, a fare un sopralluogo. Queste resteranno le priorità di Sinistra italiana. Noi crediamo che per chi è andato via e per chi viene, Sinistra italiana, non sarà un luogo di transizione, ma sarà un luogo che vuole costruire un percorso molto più lungo. Quindi noi siamo pronti a lavorare con tutti, ma soprattutto con chi vuole fare un percorso che sia solido. Per quello abbiamo costruito un partito e non un movimento. All'indomani delle primarie del PD, che hanno visto vincere ancora Matteo Renzi, e in vista delle prossime elezioni, ora la riflessione va sulla frammentazione dei tanti partiti in cerca di coalizione. Secondo me il dato reale è quello che il Partito Democratico oggi è il partito di Renzi, nel senso che non ci si può girare intorno e chi vince ha ragione. Quindi il PD a trazione renziana non è morto come qualcuno pensava qualche mese fa, è più forte di prima. E questo necessita un'accelerazione a sinistra per riorganizzare un quadro di alternativa. L'abbiamo detto al Congresso nazionale insieme all'elezione del nostro segretario nazionale, che è di rimente ricostruire a sinistra un percorso nuovo, come si è fatto nel resto d'Europa, all'altronde con Podemos e con tantissime altre esperienze di partecipazione dal basso, perché evidentemente il governo attuale, quello che l'ha preceduto, purtroppo vanno in un'altra direzione, che per la sinistra sicuramente è assolutamente negativo. Uno studio sociologico portato avanti dall'Università di Chieti ha analizzato 260.000 dati conservati negli archivi parrocchiali della Madonna dei Sette Dolori di Pescara. Un viaggio di 247 anni basato sugli atti di battesimo che delineano storia e sviluppo demografico di Castellamare Adriatico. Tre anni di lavoro, 13 volumi contenenti 260.000 dati e una storia che abbraccia un'epoca che va dal 3 settembre 1667 al 31 dicembre 1914. Si tratta di atti di battesimo che raccontano lo sviluppo di Castellammare tramite l'archivio storico dell'unica parrocchia esistente all'epoca, la Madonna dei Sette Dolori, a sostenere tutti i costi del lungo lavoro proprio la parrocchia di padre Sergio. È una fonte importante che spesso viene trascurata, che rischia appunto di non trovare un punto di riferimento in cui raccogliere tutto questo materiale. E quindi grande interesse a questa documentazione, soprattutto per la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori, che rappresentava l'unica parrocchia esistente nel territorio di Castellammare fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Questa ricerca è nata da un progetto che è in sinergia con la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori, che ha informatizzato il materiale e che poi ha prodotto questo libro che andremo a presentare il 5 di maggio e che vuole essere il risultato di questa ricerca, ma soprattutto lo stimolo a quanti vogliono utilizzare questo materiale per ulteriori spunti di riflessione. Una ricostruzione storica di valore locale e non solo, un lavoro portato avanti dall'Università di Chieti che spiega lo sviluppo demografico e culturale avvenuto fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. C'è dietro uno studio sia di ricerca archivistico ma anche di cultura perché da questa iniziativa si riesce a risalire ai primi anni della nostra città. È una ricerca di identità che va ad affrontare la storia di Pescara, quindi dalla nascita di Pescara in avanti per far capire anche l'importanza dei centri di aggregazione come le parrocchie nello studio della storia della nostra città. Successo di pubblico e di critica per la nuova produzione del TSA, Per ciò che è stato. Il tema è quello della rovina delle aziende e del suicidio degli imprenditori. Per ciò che è stato. Una storia di prorompente attualità che si fa spazio sulle scene fino ad essere una poetica denuncia del teatro civile con una nuova produzione del teatro stabile d'Abruzzo in anteprima nazionale all'Aquila. La regia e la drammaturgia sono Di Mauro Santo Pietro con Antonello Fassari, strepitoso attore noto anche al grande pubblico per aver interpretato l'oste Cesare nella finzione di Canali 5 e Cesaroni, protagonista nei numerosi film e serie tv e Alessia Giangiuliani, protagonista di Adamo ed Eva, spettacolo del TSA che tanto successo ha avuto nelle repliche new yorkesi. Antonio Tintis e Stefano Scandaletti. È una storia popolare, spiega il regista Mauro Santo Pietro, in cui il pubblico può partecipare in maniera attiva cercando un vero e proprio dialogo capace di moltiplicare le narrazioni, similitudini e confronto. Tornare a un teatro popolare, nell'accezione migliore del termine, è dunque questo l'obiettivo. Nello spettacolo ci sono tutti gli archetipi di una struttura sociale riconoscibile agli occhi di un pubblico contemporaneo, che ha ancora la memoria della vicenda tutta italiana dell'Ilva e dei tanti articoli di giornale sugli imprenditori morti a causa di un fallimento. Ma la storia prende anche spunto da elementi di classicità, cavalcando una drammaturgia che pian piano trasforma il linguaggio da quotidiano a poetico. L'Italia è un paese dove le difficoltà non vengono risolte, ma si consumano lacerando le vite di coloro che si frappongono tra i problemi e la loro soluzione. Ecco che arriva la denuncia che l'autore vuole gridare al pubblico. Alla fine dello spettacolo non c'è nessuna giustizia perché non si intravede in questa società, ma c'è il desiderio e la feroce speranza di ribaltare questo status quo. Dopo una lunga assenza torna Pescara all'opera lirica. Obiettivo coinvolgere anche il pubblico dei giovani con una messa in scena spiccatamente contemporanea, con un cast di giovani talenti. La traviata di Giuseppe Verdi sarà diretta da Jacopo Sipari con la regia di Alberto Paloscia in programma il 5 maggio al Teatro Massimo. È una delle opere più conosciute al mondo. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 marzo del 1853. A causa della critica alla società borghese l'opera fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura fu spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. A Pescara torna la lirica dopo una lunga assenza con l'ambizione di essere fruibile anche al pubblico dei giovani. La traviata di Giuseppe Verdi sarà in scena al Teatro Massimo il prossimo 5 maggio con una lettura contemporanea curata dal regista Alberto Paloscia. Proprio perché riportiamo la lirica a Pescara dopo tanto tempo ho lavorato su una produzione elegante e tradizionale facendo soprattutto un grosso lavoro di drammaturgia su cantanti che sono giovani con cantanti anche del territorio abruzzese, grande attenzione per gli artisti del territorio. C'è anche un grande cantante già affermato e già solido professionista che è Giancarlo Ceccarini che è un baritono pisano che ha cantato nei più grandi teatri italiani e stranieri dalla Scala di Milano, l'Arena di Verona. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Jacopo Sipari, abruzzese impegnato all'estero che all'ultimo festival pucciniano dell'America Latina ha registrato il sold out per Tosca e Madama Butterfly. Cerchiamo veramente di rendere una traviata che sia paideutica che sia veramente espressione di tutto quello che noi in un certo qual modo reghiamo nel cuore e che sia effettivamente una traviata liberatrice per tutti coloro che vengono a vederla. Quando è che un direttore d'orchestra è soddisfatto? Quando sentiamo veramente le persone che alla fine di queste due ore di opera dove hanno respirato con noi musicisti lasciano un ultimo respiro finale sentendosi probabilmente felici di non aver perso queste due ore e questa probabilmente è la soddisfazione più grande. E ora andiamo all'Aquila. La madonnina di Capo Preturo è stata restituita alla comunità in tutto il suo splendore, il servizio. Con una donazione di 10 euro al mese da parte di ogni famiglia della comunità di Preturo ha rivisto la luce nella sua veste originaria la Madonnella, la chiesetta di Capo Preturo. Le origini della Madonnella non sono certe eccetto che per la datazione scritta contro la facciata 1750, questa presumibilmente è riferibile all'anno di edificazione dell'edificio sacro. Nella storia della chiesa non è comunque un anno come tutti gli altri si tratta infatti di un anno giubilare. La Madonnella è un luogo caro soprattutto ai malati e agli anziani della comunità, devoti soprattutto al quadro dello sposalizio della Madonna che è custodito sull'altare della Madonnella. E' così che la comunità di Preturo si è stretta per assistere alla consacrazione della chiesetta della Madonnella fatta con una celebrazione solenne ufficiata dal Vescovo Metropolita dell'Aquila Monsignor Petrocchi. Tra le reliquie tumulate nella consacrazione della chiesetta anche quella del Libro d'Oro con l'elenco di tutte le famiglie che hanno contribuito alla rinascita ed al restauro della Madonnella perché possano rimanere a futura memoria dei posteri. Si svolgerà a Montesilvano dal 4 al 7 maggio al Paladin Martin il trofeo Scacchi Scuola con 355 squadre provenienti da tutta Italia e 1900 partecipanti. L'organizzazione è curata dal MIUR, dal CONI, dal Comune di Montesilvano e dalla Federscacchi. Rebegiani si parla di questa importante manifestazione che si terrà a Montesilvano, si parla di Scacchi. Voi rappresentate il meglio di questa disciplina sportiva in Abruzzo. Certo, noi abbiamo un'attività importante sia a livello scolastico da tanti anni che dà un impatto formativo ed educativo enorme ai nostri ragazzi e anche a livello di vertice perché siamo stati i campioni d'Italia tante volte. Lo scorso anno doppio titolo maschile che femminile e proprio ieri abbiamo invece perso i titoli, entrambi i titoli a Gallipoli in questa finale nazionale. abbiamo comunque riportato un secondo posto nel maschile e un terzo nel femminile e adesso siamo già coinvolti in questa organizzazione insieme all'Accademia Internazionale di Scacchi. Molto importante perché avremo dal 4 al 7 maggio qui a Montesilvano col coinvolgimento di tutta l'amministrazione comunale degli operatori alberghieri un importantissimo evento. Questa è la fase finale appunto del campionato nazionale delle scuole con numeri importanti perché ci sono tutte le regioni d'Italia 1.900 ragazze che si sfideranno contemporaneamente al Paladin Martin qui di Montesilvano quindi sarà sicuramente uno spettacolo sia sportivo ma anche visivo proprio vedere tutte queste persone giocare contemporaneamente all'evento. Questa manifestazione serve anche per smentire un luogo comune che gli scacchi non siano una disciplina per giovanissimi invece non è così? No, assolutamente lo stereotipo diciamo dello scacchista in questi anni è completamente cambiato oggi i frequentatori dei tornei di scacchi per il 70% sono giovanissimi proprio gli scacchi appunto che è una disciplina a tutti gli effetti del CONI quindi del movimento sportivo italiano oggi ha una grandissima partecipazione di giovani a testimonianza di questo e proprio questo evento. Il podista di origine etiope Senibeta Adugna concede il bis dopo quella dello scorso anno si giudica anche la vittoria dell'edizione numero 38 della maratonina pretuziana che si è svolta come da costume ieri primo maggio soddisfatti gli organizzatori per il boom di iscritti alla competizione e per i tanti spettatori presenti ai margini del tracciato. Circa 1.200-1.300 atleti che hanno corso cittadini, insomma sportivi che hanno corso la gara di 5 km per poi vedere quello straordinario spettacolo con i bambini, con le canottine e con i cappelli colorati e anche loro molto numerosi oltre mille partecipanti quindi veramente un'edizione da record. Io volevo un attimino cogliere l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che hanno collaborato all'ottima riuscita di questa amministrazione quindi tutti i componenti del gruppo Vodistico Magattori Teramo le tante associazioni di volontariato che hanno veramente chiuso centimetro per centimetro il percorso rendendolo sicuro vogliamo ringraziare anche tutti i gruppi che hanno partecipato numerosissimi da tutte le palestre l'Università Unite di Teramo l'Università di Teramo con una straordinaria partecipazione con più di 300 arrivati con più di 300 arrivati quindi ringraziamo tutta l'Università il magnifico Rettore tutti quelli che sono venuti anche l'associazione a modo tuo per quanto riguarda l'associazione per i bambini per diciamo così per l'autismo la ASL di Teramo che ha voluto quest'anno promuovere Teramo-Dona cioè in collaborazione con l'Aido e con l'Aned e adesso la nostra città sta completando il lavoro sul corso San Giorgio di pavimentazione per il rifacimento del corso e se tutto va bene il prossimo anno per la 39esima edizione insieme al gruppo podistico Amatori di Teramo chiaramente vorremmo riproporre anche la gara internazionale ad inviti molto spettacolare anche quello per palati fini questo servizio ci ha introdotto alla pagina sportiva e parliamo subito di Serie A e di Pescara da stamani sono in vendita i tagliandi per la partita di domenica prossima tra Pescara e Crotone intanto continua a tenere banco e a far discutere il caso Montari vediamo una giornata di squalifica per Sallei Montari e la decisione presa dal giudice sportivo è spiegata sul comunicato facendo riferimento al fatto che il giocatore ganese è stato espulso a fine gara per doppia munizione la prima per proteste la seconda per comportamento non regolamentare in quanto Montari ha lasciato il campo senza l'autorizzazione del direttore di gara domenica scorsa al Sant'Elia il centrocampista ganese era stato fatto oggetto di insulti razzisti da alcuni tifosi del Cagliari e vanamente aveva richiesto a Minelli di Varese di intervenire anzi l'arbitro aveva mostrato il giallo allo stesso Montari che poi aveva deciso di abbandonare il campo lasciando il pescare in dieci uomini nei minuti di recupero non solo il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio in base alla relazione dei collaboratori della Procura Federale e al referto arbitrale i pur deprecabili cori di discriminazione razziale si legge nel comunicato sono stati percepiti nell'impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura ma essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli 10 sostenitori e dunque meno dell'1% del numero degli occupanti del settore circa 2000 non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione peraltro non percepiti dagli ufficiali di gara come refertato dall'arbitro a portare la solidarietà a Salle e Muntari è piombato nel pomeriggio da Roma al centro sportivo Poggio di Lurivi di Marina di Città Sant'Angelo il console onorario del Ghana in Italia Massimiliano Colasuono Taricone che ha voluto incontrare il 34enne calciatore del Pescara per capire cosa è accaduto domenica scorsa ascoltando la versione del giocatore il colloquio fra il console del Ghana in Italia e Muntari è durato oltre mezz'ora poi il diplomatico è ripartito alla volta della capitale il caso intanto ha avuto una notevole eco internazionale l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zaid Rad Al Hussein ha reso omaggio a Muntari giudicandolo un esempio nella lotta al razzismo è necessario fare di più di fronte alle espressioni di razzismo a livello nazionale o internazionale sui campi di calcio ha detto Zaid in un incontro a Ginevra con la stampa l'ONU sostiene la libertà di espressione ha aggiunto Zaid ma l'incitamento all'odio e potenzialmente alla violenza è qualcosa a cui si deve prestare attenzione sulla vicenda è intervenuto in maniera incisiva anche il quotidiano londinese The Guardian che ha chiosato l'Italia fatica a fermare i corri razzisti nei suoi stadi e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni ricordando anche il caso che ha coinvolto l'allora milanista Boateng nel corso di una mica uguale sul campo della Propatria nel gennaio 2013 e ora scendiamo in Lega Pro questa mattina il presidente del Teramo Luciano Campidelli ha tenuto una conferenza stampa ed è stata l'occasione per ribadire la sua vicinanza alla squadra e all'attaccante Sansovini finito nell'occhio del ciclone dopo il gol fallito contro il Parma in più Campidelli ha ribadito che anche il prossimo anno comunque vadano le cose rimarrà alla guida della società Biancorossa vediamo negli ultimi due anni sono stati fatti degli errori non è che ce lo possiamo negare il più grande che ho fatto io personalmente è quello è questo è stato quello di pensare a tornare a vincere da subito acquistando solo calciatori questa non è la strada giusta ci tenevo a difendere pubblicamente tutti i miei calciatori attualmente in rose se vogliamo davvero salvarci abbiamo bisogno di tutti nessuno escluso sono certo che i nostri calciatori hanno sempre dato il massimo e con l'arrivo di Ucolotti che credo abbia fatto anche bene forse con una rosa al completo senza alcuni piccoli infortuni avremmo potuto fare qualche punto di più che ci permetterebbe oggi di parlare di miracolo mi rivolgo in particolare a una frange di tifoseria specialmente chi decide settimanalmente di mettere alla gogna tesserati o dirigenti a chi parla di retrocessione programmata dimenticando come il nostro sia uno dei sette o otto base più importanti del girone a chi ci insulta sistematicamente e a chi non sembra voler bene a questi colori del Teramo abbiamo commesso degli errori è ovvio ma solo chi non fa non sbaglia capisco l'amarezza della gente che si aspettava ben altro ben altro rispetto con questa di una stagione così sofferente lo stesso ci aspettavamo noi ma se un calciatore viene apostrofato pesantemente per una rete sbagliata creando addirittura apprezzioni e patemi alla sua stessa famiglia c'è qualcosa che non va e che non posso digerire per nessun senso alla fine di ogni progetto si fanno i conti e sui conti c'è chi viene confermato a chi viene allungato il contratto e chi a seconda le 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 dinamiche oppure i meriti che hanno potuto avere o non averlo nell'arco dell'annata andrà via quindi i conti si fanno alla fine noi andiamo al bar andiamo tutti a bere il caffè insieme a Milano a Torino chi massacrano certi giocatori sono di Reggio Calabria dell'estero della Sardegna della Sicilia qui stiamo tutti qua ci ritroviamo in mezzo alla piazza e ci conosciamo tutti e com'è possibile che se ci conosciamo tutti ci dobbiamo massacrare a questi livelli per far finire un giocattolo il giocattolo non finisce perché io non mollo quando le cose vanno male io mollerò quando noi andremo benissimo e a margine della conferenza Campitelli ne ha approfittato anche per parlare dell'ultima giornata di campionato e delle possibilità di salvezza del Teramo passando dai play-out peraltro la partita di domenica prossima a Salò contro la Feralpi fischio d'inizio alle 14.30 sarà diretta da Manuel Volpi di Arezzo vediamo metto il 50% perché perché i calciatori si devono mettere in mente che il pericolo c'è e quindi per superare il pericolo si devono impegnare da 1 a 10 10 altrimenti per la mentalità che abbiamo rischiamo più noi che gli altri io penso che l'impegno ci sia sempre stato oggi va messo in più la ferocia la cattiveria la testa tutto quello che ci hanno messo fino ad oggi non è bastato quindi sicuramente tutto lo staff tecnico devono mettere più di quello che hanno messo fino adesso ma sono sicuro io spero una cosa che facciamo la partita fuori casa la prima e la seconda la facciamo in casa perché sono sicuro che che noi gli daremo una grossa mano alla squadra con uno stadio pieno gli daremo una grossa mano la paura mia è solo quella voglio arrivare quinto ultimo quarto ultimo per questo motivo che la prima la devo fare fuori casa la seconda in casa sono sicuro che tutti quanti noi perché io credo che tutti quanti noi vogliamo salvare il Teramo io penso tutta la Bruzza tutta la provincia di Teramo vuole salvare il Teramo perché è diventato è un patrimonio è proprio tutto per questa seconda edizione del TG6 vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con ProTeramo il nostro settimanale sul Teramo e sulla Lega Pro condotto da Jacopo Forcella e poi la terza edizione del TG6 alle ore 23 grazie per la cortesa attenzione e buona serata grazie per la visione